Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video che vi avevo preannunciato perché stamattina vi ho portato la chiacchierata che abbiamo fatto ieri in live su Twitch con alcuni abbonati dove abbiamo rivisto gli allies di tutte le partite disputate dalla Juventus fino a questo momento e quindi cercavo di creare un contenuto che potesse riassumere e farci capire quello in cui siamo davvero più bravi e tante cose in cui purtroppo in questo momento non siamo ancora bravi al 100% quindi mettetevi comodi che sarà un viaggio attraverso partite che speravo di dimenticare ma che rimangono comunque impresse nella mente come cantava Eros Ramazzotti perché fanno parte del percorso della Juventus di quest'anno e finché non si riuscirà ad uscire dal momento di crisi quelle partite devono secondo me rimanere ben impresse nelle nostre menti per farci capire che cosa siamo stati in grado di fare in senso negativo all'interno di questi primi due mesi del 2022-2023 e sperando anche che qualcosa possa cambiare con i ritorni di Chiesa e Pogba e a tal proposito vi invito a passare qui sotto in descrizione dove potrete trovare il link per scaricare numero 10 applicazione con la quale sto collaborando e lavorando e dove ho proprio scritto un articolo inerente ai ritorni di Chiesa e di Pogba vi invito a scaricarlo dal link in descrizione per poter leggere questo articolo e non solo perché poi venerdì sera la Juventus giocherà una partita contro l'Empoli e il post partita lo troverete proprio sul numero 10 quindi passate dal link qui sotto in descrizione io direi di cambiare subito schermata oggi ho preparato una slide fatta direi abbastanza bene con il riassunto di quelli che sono stati i nostri gol e anche alcuni punti forti magari che a volte si sono trasformati in gol o magari di azioni che non si è riusciti a completare al migliore dei modi per capire da dove ripartire con questa Juventus e quindi eccoci qua con l'analisi dei gol fatti dalla Juventus 2022-2023 la prima in casa col Sassuolo abbiamo fatto tre gol di Maria dopo un cross dalla sinistra di Alexandro di Maria al centro-destra impatta al volo ed è un gol che nasce da costruzione esterna quindi dal cross di Alexandro largo a sinistra il secondo gol è Vlaovic un calcio di rigore nato da un lancio lungo dall'esterno in verticale a cercare la profondità che è uno dei punti forti di Vlaovic anzi per quanto mi riguarda è il punto forte di Vlaovic che dobbiamo cercare di massimizzare sempre di più e quindi è un rigore il calcio da fermo però in realtà nasce da un lancio lungo dall'esterno verso la via centrale il terzo è sempre di Vlaovic la doppietta di Dujan su assist di Di Maria da trequartista serve dentro Dujan all'area di rigore e nasce centrale a tal proposito io vorrei cercare di portarvi alla mente riportarvi alla mente quello che è stato il gol del 3-0 nella prima partita stagionale partita che a me ha convinto la prima con lo Sassuolo è stata una partita che a me è piaciuta soprattutto per questo motivo qua la Juventus era sì avanti di due però continuava a cercare il gol del 3-0 e infatti come potete vedere qui il Sassuolo costruisce l'azione da dietro l'invio del portiere gioca a pa, gioca a corto, gioca a basso la Juventus va in pressing con Dujan Vlaovic impone l'errore porta all'errore il difensore del Sassuolo Di Maria recupera palla ed imbucata dentro per Vlaovic e Vlaovic riesce a trovare il gol del 3-0 quindi questa cosa secondo me è da salvare è un atteggiamento che la Juventus è mancato in tante partite e purtroppo secondo me questa è proprio la cosa peggiore di questa Juve che in alcuni momenti ha un atteggiamento super propositivo cercando di andare in avanti cercando di andare a chiudere le partite anche se c'erano già dei gol di scarto a favore invece in alcuni momenti la Juventus si accontenta proprio del minimo sindacale abbiamo visto che quando questa Juve va sotto i giri standard le cose non vanno assolutamente nel migliore dei modi e anzi ti ritrovi magicamente ottavo in classifica in Serie A quindi questa cosa secondo me dal Sassuolo ce la portiamo via oltre al fatto che c'è stato un gol nato dall'esterno un gol nato da fermo e un gol nato centrale e questa è soltanto la punta dell'iceberg perché vedrete che d'orino avanti non ci sarà questa distinzione grande infatti con la Sampdoria c'è il nulla cosmico da salvare dato che non riusciamo nemmeno a fare gol però c'è questa bella azione secondo me della Juventus da cui poi nasce il gol di Rabiot in fuorigioco di Vlaovic Miretti appena entrato vede l'attacco la profondità da parte di Dujan Vlaovic lo serve Vlaovic è oltre la linea dell'ultimo difensore della Sampdoria mette il pallone in mezzo D'orabio fa gol ma è tutto da rifare perché il pallone a rimorchio non conta più dato che la posizione di partenza di Vlaovic era da segnalare come irregolare però questa è una soluzione e la vedremo sempre più spesso vi ho portato altre slide con questa situazione nello specifico perché secondo me è un grande punto di forza della Juventus perché Vlaovic credo che sia uno dei più forti attaccanti all'interno della nostra Serie A e ha questa caratteristica di attaccare lo spazio in maniera impressionante con una palla in verticale probabilmente riusciamo sempre ad essere pericolosi e dobbiamo cercare questa soluzione secondo me con più insistenza con la Roma Vlaovic su punizione il primo delle due poi vedremo che subito dopo con lo spezza ci sarà quell'altro quindi un gol che nasce da da fermo quindi un calcio di punizione però c'è questa opzione che mi è piaciuta molto e riguardando i replay vedi che la Juventus l'ha cercata in più di un'occasione ma sempre pochissime volte quando noi riusciamo ad attaccare con 3, 4, 5 uomini riusciamo sempre a creare un'azione pericolosissima e questa voglia di portare via gli uomini guardate qua della Roma infatti ci sono Kostic e Vlaovic che vanno a cercare Vlaovic ovviamente la parte centrale che è la più pericolosa quindi la Roma va a fare densità lì Kostic sulla sinistra si libera questo corridoio per il quadrado Miretti è molto bravo tra l'altro secondo me a ricercare quelle posizioni e a servire quei palloni sulla corsa anche con i giri contati quadrado forse un po' pigro perde il tempo giusto però questa è una soluzione infatti quella con la Roma probabilmente è stata una delle partite che per atteggiamento mi è piaciuta più di tutte poi siamo esplosi forse ci siamo anche abbassati non lo so un insieme delle due cose probabilmente dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale e non siamo stati bravi non siamo stati in grado di portare a casa la vittoria ed è una partita che secondo me è stata preparata anche molto bene hai rischiato addirittura di perderla perché se Milic non ti salva quel gol sulla linea la Roma fa il gol del 2-1 e tu rischi di salutare lo stadio con una sconfitta però queste sono cose che la Juventus sa fare è in grado di fare quando invece si limita solamente a quel blocchetto di giocatori fissi dietro per cercare di non prendere gol non siamo in grado di sprigionare tutta la qualità che abbiamo nel reparto offensivo con lo Spezia ancora Vlaovic su punizione quindi ancora da fermo l'altro invece è di Milic con Miretti che da destra con una giocata porta avanti il pallone fa un cross basso centrale per Arek che lavora ancora una volta il pallone e fa gol vi voglio far vedere perché questa è la giocata Desciglio in verticale a Miretti e da qui noi facciamo gol perché Miretti si gira il difensore dello Spezia il giocatore dello Spezia un po' troppo leggero Miretti con una giocata se ne libera due tocchi arriva sul fondo palla in mezzo Milic bravissimo lavorarsela però dal niente e che cosa significa che noi comunque siamo bravi ogni tanto purtroppo solo ogni tanto a costruire delle azioni che in due tocchi ti portano in porta secondo me questo è il più grande limite della Juventus questa Juventus è in grado di costruire delle azioni di prima di seconda magari con tre tocchi a esagerare ma per ribaltare in fretta al fronte questa Juventus va a castrare la propria qualità e la propria potenza offensiva quando inizia a toccare la palla tante tante volte invece quando questa Juve riesce a scambiare in velocità i giocatori per farlo perché i giocatori tecnicamente validi la Juventus ce li ha magari non tutti magari non sempre all'interno della formazione titolare ma ci sono dei veri e propri leader tecnici di tanto in tanto la Juventus fa il suo e riesce a tirar fuori qualcosa il problema è questa voglia di tirar fuori quel qualcosa soltanto in determinate partite in determinati momenti della partita senza dare continuità di rendimento a queste soluzioni a queste idee che comunque ci sono perché di tanto in tanto vengono fuori con la Fiorentina beh Fiorentina è una partita bruttissima perché probabilmente la Fiorentina ci ha veramente insegnato a gestire una partita di questo livello però noi i primi 15-20 minuti ancora una volta vedete siamo sempre qui a dire eh 10 minuti di là eh 15 di qua eh 20 di là e 5 di qua e 3 di là non riusciamo mai o quasi mai a fare una partita veramente sul pezzo convincente al 100% però questa probabilmente è una delle lezioni più belle che fa la Juventus con Locatelli con Locatelli e Di Maria Di Maria che verticalizza per Locatelli Locatelli che apre sulla destra quadrado in due tocchi porta avanti il pallone la crossa vedete la freccia blu la crossa sul palo dall'altra parte invece Costic che di prima rimette in mezzo e Milik tocca quasi in ginocchio e fa gol non lo so forse di Pube è un'azione bellissima questa della Juve non riesco a capacitarmi come la stessa squadra che abbia fatto questa azione nei primi 20 minuti trovando il gol dell'1-0 a Firenze una piazza molto complicata poi nel secondo tempo si sia completamente rassegnata e messa alla mercè della Fiorentina cioè non sembrano veramente la stessa squadra però la Juve queste cose le sa fare perché non le vuol fare ai posteri l'ardua sentenza la risposta a voi nei commenti io non riesco a capire come mai se non si raggiunga i risultati non si cerchi con insistenza queste soluzioni che ribadisco abbiamo visto fare da questa squadra ma soltanto in determinati momenti e questa credo che sia proprio una volontà da parte dell'allenatore e se poi non arrivano i risultati col PSG McKennie dall'angolo si scambia con Kostic Paredes e Kostic che crossano da sinistra per Weston dentro l'area è nato quindi esterno ma da fermo perché un calcio è un calcio d'angolo in cui si scambia questa è una soluzione interessante per la Juve quando gioca con Milik e Vlaovic che sono i due col cerchi rosso dentro l'area di rigore quasi nell'area piccola del PSG e con McKennie che tante volte viene schierato come finto esterno ma comunque anche in caso di semplicemente mezz'ala di inserimento McKennie lo può fare più in questo caso abbiamo anche mi pare Bremere e Bonucci che stanno entrando o Danilo e Bonucci da qui si fa un po' fatica a capire però le possibilità nel gioco aereo la Juventus ce le ha e non capisco perché se McKennie quindi dalla parte opposta rispetto a Kostic Vlaovic e Milik sono in area non si cerca sempre questa soluzione perché nel gioco aereo la Juventus ha delle grandi carte da potersi giocare e col PSG l'ha dimostrato perdendo la partita ma riuscendo anche a far male al pari in quel modo certo poi con la sfarfallata di Donnarum la rata chiusura difensiva di quella del PSG però in questa occasione e perché non la riproponiamo questa occasione con la Salernitana vabbè successo quello che è successo però cerchiamo di analizzare la costruzione dei gol quindi Bremer il gol di Bremer Kostic dalla sinistra cross a centurario per Bremer ancora una volta basta un cross Kostic sia col PSG con la Salernitana ha fatto l'assist Bonucci calcio di rigore con Quadrado e Alexandro che lavorano sulla sinistra e si prendono il fallo in area questo è un gol da fermo anche se poi Bonucci sbaglia il rigore e fa gol sulla ribattuta anzi prima di con la Salernitana ragazzi è l'ennesima conferma che questa squadra veramente ha due facce è che se decide di approcciare una partita interamente come nella parte finale del secondo tempo con la Salernitana beh non ce n'è per nessuno perché poi la Juventus riesce con facilità a creare occasioni da gol quando decide di essere dentro la partita purtroppo ci sono fin troppe partite in questa stagione in cui abbiamo completamente rinunciato a questa cosa Benfica Milik Paredes da destra crossa su punizione con Milik che gira di testa un altro gol nato esterno da fermo però è quello che vi dicevo prima cioè guardate quanta potenza di fuoco ha la Juventus nel gioco aereo e anche in questo caso col Benfica esattamente come con la Fiorentina 15 minuti fatti bene vai anche in vantaggio e poi cedi completamente muori lasci completamente la partita in mano a quegli altri e appunto gioco aereo una coincidenza che sia contro PSG che contro Benfica abbiamo segnato due volte il suo colpo di testa sono le due squadre più forti all'interno del nostro girone hanno sofferto questa soluzione allo stesso tempo siamo stati incapaci di segnare in maniera differente cioè io questa cosa non riesco proprio a spiegarmi allora perché non si insiste su questo palese punto forte della Juventus qua non c'è bisogno di bel gioco chissà che cosa si tratta semplicemente di migliorare la possibilità di dare la palla a un giocatore esperto nei cross come Kostic che in questo momento è stato anche abbastanza impreciso e allora bisogna cercare di farla venire fuori in maniera più pulita questa palla che arriva a Kostic e questa possibilità di far crossare Kostic o comunque Alexandro Quadrado gli esterni la Juventus non accompagna mai l'azione con gli esterni bassi questa cosa è clamorosa e nel calcio di oggi devono avere un ruolo anche i terzini certo la Juve non ha dei terzini di spinta ad oggi e questo lo sappiamo lo sapevamo da quando questa è stata e commentavamo il calcio mercato però la possibilità di mettere dei palloni dentro l'area di rigore la Juventus le torri ce le ha dei giocatori bravi nel gioco aero ce li ha allora perché non sfruttiamo questa cosa qui che ci ha permesso di far male a PSG e Benfica che saranno probabilmente le due squadre che passeranno il gironi di Champions al posto nostro Monza non voglio parlarne perché non c'è niente da salvare Bologna Kostic Vlaovic porta palla centralmente allarga su Filip nato centralmente ma finalmente in ripartenza la Juventus finalmente inizia a giocare in ripartenza accetta di giocare anche in ripartenza col Bologna è stata una partita studiata per giocare in questo modo e non capisco perché poi si faccia ogni tanto sì ogni tanto no Vlaovic McKennie largo a destra crossa per Dujan che di testa in fila poi la vedremo perché c'è una slide di questa azione nello specifico gol che nasce dall'esterno Milik gol clamoroso di Milik dopo un calcio d'angolo palla che finisce a destra Quadrado la rimette in mezzo per Arek quindi un gol nato dall'esterno barra fermo questo è il gol di Vlaovic ripartenza anche qui Kostic in solita posizione di alla destra appoggia per Locatelli Locatelli di prima la mette per McKennie che di prima va di Vlaovic che di prima di testa fa gol io quando vedo fare queste cose alla Juve e quando gliele vedo fare a freddo quindi non dentro una partita magari qualche mese dopo mi chiedo ma è davvero la stessa squadra che mi fa dire cazzo siamo ottavi in classifica in Serie A e siamo fuori dalla Champions e forse anche fuori dall'Europa League perché queste cose sono cose fatte bene e voi direte sì ma dall'altra parte c'era il Bologna c'era il Maccabi è vero è vero il problema è che ci sono state come abbiamo visto col Monza e come vedremo col Maccabi anche delle giornate in cui era sempre solo quell'altro come la Samp che abbiamo visto era solo la Samp Doria però noi il nostro non ce l'abbiamo messo e se noi il nostro non ce lo mettiamo che siano fortissimi che siano scarsissimi noi non la vinciamo la partita quello col Bologna dicevo dei piccoli passi in avanti come li ho visti anche col Maccabi perché tu quel qualcosa di diverso ovviamente il Maccabi l'ha andata in casa ma tu qualcosa di diverso l'avevi fatto piccoli passettini in avanti perché tu qualcosa l'avevi fatto nelle altre partite invece non lo fai ti spegni rinunci lo fai per dieci minuti Rabiot Adrienne Di Maria con imbucata centrale per il francese gol che nasce centrale Vlaovic palla geniale di Di Maria per Dujan che è in fila nato centrale Rabiot calcio d'angolo cross di Di Maria per Adrienne che segna di testa da fermo ora era la serata di Di Maria triplo assist di Di Maria doppietta di Rabiot però tu in questa partita fai due gol che nasca in centrali e anche tantissime altre occasioni c'è stata una con il Bologna in cui Vlaovic fa quel pallonettino c'è stata questa occasione ancora una volta quello che dicevo prima quando Vlaovic sia col Bologna che fa il pallonetto lo sbaglia l'avevamo visto fare con la Samp che nasce il gol in fuorigioco lo vediamo fare adesso quando Vlaovic attacca la profondità la Juve diventa sempre pericolosa sempre quando c'hai i giocatori che corrono verso la porta degli avversari quando hai la possibilità di dargli la palla nello spazio noi diventiamo pericolosi perché Vlaovic è una soluzione qui hai fatto due gol per vie centrali questo l'avevi fatto fuorigioco millimetrico di testa di Vlaovic ma non importa vuol dire che questa è una palla che è possibile per la Juventus è una soluzione possibile per la Juventus abbiamo già visto palle in profondità per Vlaovic gioco aereo palle laterali perché noi siamo bravi quindi il gioco aereo è da lì o comunque anche dei calci da fermo ora faremo un riassunto alla fine però state iniziando a capire che tipo di squadra è la Juventus e state iniziando a capire che la Juventus queste armi non le sfrutta o non le vuole sfruttare questa è col Milan questi sono i primi otto minuti col Milan che è uguale alla partita col Benfica che è uguale alla partita con la Fiorentina partiamo bene cerchiamo di fare le cose fatte bene poi ci sciogliamo col Benfica e la Fiorentina è andato anche in vantaggio qui non ci sei riuscito però perché se tu è in occasione del genere dopo otto minuti in casa del Milan campione in Italia a San Siro e attacchi in cinque contro tre con uno del Milan che deve inseguire e riesci a fare questa azione poi per i successivi 90 minuti tu non ti metti neanche nell'ordine delle idee di provare a farla è questo che mi fa arrabbiare perché questa Juve la possibilità di fare bene ce l'ha e poi i Maccabi era solo il Maccabi era solo il Monza era solo la Sampdoria come era solo Bologna Maccabi è andata è certo che erano solo quelle però tu nelle partite in cui fai schifo e non ci metti neanche quel minimo perdi e c'è poco da dire col Toro Vlaovic calcio d'angolo con Danilo che spizza e Dujan che insacca sul secondo quindi calcio da fermo un gol su calcio d'angolo però vi ho messo quest'azione che secondo me è molto bella e ancora una volta vi dà l'idea di una Juventus che attacca verso la porta l'avversario in ripartenza in velocità con un'azione fatta di prima quindi pochi tocchi in avanti perché qua nasce da Vlaovic che spalla la porta di prima allarga su Kostic dopo un recupero palla di rabbia a centro campo una verticalizzazione di prima di Locatelli prima Vlaovic allarga su Kostic e da qui nasce la macro occasione che Moise Kemp poi tira dritto per dritto 5 metri lontano dalla porta però questa è un'occasione questa è una nazione fatta bene dalla Juventus questa è una nazione in ripartenza sensata logica e allora ancora una volta il mio appello è perché perché non le facciamo perché non le facciamo tante perché la vive del primo tempo col Torino è stata una brutta Juve perché poi nel secondo tempo ci sono 3-4 azioni da gol e sei addirittura costretto a fare gol su calcio in angolo quando te lo meritavi prima perché quindi il riassunto da fermo hai fatto 6 gol 2 rigori 2 punizioni 2 calci d'angolo centrale soltanto 4 gol e 3 volte l'assistera di Di Maria e questo già ti dà una risposta la Juventus è brava a costruire un gol per vie centrali quando c'è Di Maria in grado di servire quel corridoio perché se no è più difficile perché è più difficile giocare dentro al campo e ci riescano solo quelli più forti e Di Maria quella visione ce l'ha gli altri è difficile che ce l'abbiano dall'esterno è nato 5 volte nato dall'esterno barrafermo 3 quindi sono 8 se vogliamo i gol nati dall'esterno 2 angoli è una punizione 14 partite soltanto 18 gol fatti una media di 1.29 gol a partita un po' poco un po' troppo poco per una Juventus che comunque dei mini piccolissimi punti forti ce li ha ma che è terrificante nella continuità con cui riesce ad applicarli alle partite e questo si traduce in pochi gol in pochi punti una posizione brutta di classifica e poca fiducia anche nella squadra sia da parte dei tifosi nei confronti dell'allenatore sia nei confronti dei giocatori ma torno a dire secondo me la Juventus la squadra per far bene ce l'ha e davvero riguardatevi anche solo gli highlights delle partite e guardatevi quante volte ci sono anche delle giocate che dici ma sai che ma sai che però sempre troppo poche sempre troppo poche e a volte quando facciamo il gol usciamo completamente dalla partita e queste sono delle responsabilità forti ditemi voi dell'allenatore dei giocatori dei tifosi del presidente non mi interessa ma sono delle responsabilità forti perché questa Juventus non sta rendendo come dovrebbe e come potrebbe questa squadra non è scarsa questa squadra in questo momento non sta ottimizzando tutto quello che ha a disposizione ma dei piccoli punti forti ce li ha dei piccoli punti di ripartenza ci sono ora però sta a chi ci lavora quotidianamente fare in modo che queste cose possano riproporsi di gara in gara fatemi sapere un po' che cosa ne pensate che cosa ne pensate Grazie.